Traffico ferroviario rallentato da questa notte fra le stazioni di San Vito Lanciano e Vasto San Salvo sulla linea Pescara-Foggia a causa dello sviamento di due carri di un treno merci che ha causato anche danni all'infrastruttura. Un treno merci proveniente dalla Puglia diretto a nord infatti è deragliato attorno alle 23 di ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Fossa Cessi a Torrino di Sangro. Il convoglio era composto da 16 vagoni container e al momento del deragliamento dei due vagoni centrali il convoglio era ancora all'interno della Galleria Sinello. Il treno poi ha raggiunto il binario 3 della stazione di Fossa Cessia dove si è fermato. Non vi sono stati fortunatamente feriti ma rallentamenti alla circolazione che è proseguita a senso unico alternato con ritardi fino a 30 minuti e cancellazioni. Le squadre tecniche di Rete Ferrovia Italia e Trenitalia hanno rimosso i carri sviati e ripristinato i danni. Le cause del deragliamento sono in corso di accertamento anche grazie alle indagini della Polizia Ferroviaria.